Ben tornati su meteogiuliacci.it, sabato 21 settembre, ultimo giorno d'estate, visto che domenica 22 cade l'equinozio d'autunno che segna ufficialmente l'inizio della nuova stagione. Sabato quindi segna sì la fine dell'estate ma anche l'inizio di un bel weekend ancora caratterizzato dal gradevole clima tardo estivo grazie all'anticiclone delle Azzorre che si rinforzerà ulteriormente sull'Europa occidentale proteggendo l'Italia dall'arrivo di perturbazioni atlantiche almeno fino a metà della prossima settimana e quindi garantendo tempo stabile e clima mite con temperature un po' fresche di notte al primo mattino ma decisamente miti di giorno. Ma occupiamoci intanto della giornata di sabato andando a vedere l'immagine del satellite virtuale che ci testimonia l'espansione dell'anticiclone delle Azzorre sull'Italia che infatti appare completamente sgombra da nubi a parte un po' di nuvolosità sulle regioni meridionali. Dalla previsione infatti vediamo il sole splendere su tutta l'Italia a parte qualche nuvoletta sulle Alpi centro orientali e all'estremo sud con qualche debole pioggia tra Bassa Calabria e Sicilia centro orientale. Le temperature saranno in generale aumento con massime comprese tra 24 e 28 gradi e punte di 29 in Toscana che sarà la regione più calda dove avremo valori davvero estivi.